Lo so, lo so, ho fatto un casino, lo so Io come montatore non so montare ragazzi Mi spiace per le tedesche che volevano ma non lo so montare Cosa si monta nel campeggio? Si montano al campeggio con la T Te, te, tende, eh? Le tende si montano al campeggio Cosa pensavi te, le tedesche? L'ho montato male ragazzi, ho messo prima la fine e poi l'inizio Vabbè ve lo rimetto, ovviamente corretto Ve lo rimetto corretto, vi sarete fatti due risate L'avrete già sentito il video, al contrario Ve lo metto dritto così magari lo sentite bene E scusate, mi ho sbagliato, che devo farlo sbagliato? Ciao, ciao, buon video, buon video Amici dello zoccolo duro, buongiorno, buongiorno, buongiorno Oggi non parto con la canzone e con le citazioni Perché voglio iniziare con un messaggio importante Non so se voi lo sapete, tra youtuber lo sappiamo praticamente tutti Però ieri hanno chiuso diversi canali Hanno chiuso diversi canali Diego Ligorio, Donato Inglese, Gianluca Castellano Nati per vincere Hanno chiuso diversi canali e altri sono stati avvisati con una mail E sono a rischio come Restelli, Asso e altri Di conseguenza è una bella botta Poteva succedere tranquillamente anche a noi Cioè li hanno chiusi forse per la promozione delle magliette Parlano di contraffazione Probabilmente per quello E quindi poteva succedere tranquillamente anche a me Infatti ho messo in privato, anche a me, a Nesco e a tanti altri Ho messo in privato tutti i video dove promuovevo le magliette Questo non ha niente a che vedere con i pacchi che avete comprato Quelli arrivano, non c'entra niente alla società È una questione di Youtube che non si può promuovere queste magliette non ufficiali Quindi, c'è assoluta solidarietà da parte mia Per le persone a cui è stato chiuso il canale Perché è veramente brutto, no? Cioè da un momento all'altro ti chiudono il canale Ti puoi ho quattro anni che faccio video Da un momento all'altro, puff, mi chiudono il canale Non ci sentiamo più Cioè è proprio brutto È vero che noi abbiamo il video, abbiamo il canale dei fuorigioco E comunque uno lo riapre il canale, eccetera Però sai, quando lo riapri È fatica, anche mentalmente è pesante Io adesso vi metterò qua in descrizione Quelli che hanno riaperto Che ho visto, Gianluca Castellano, Donato Inglese, Nati per Vinci E ve li metto in descrizione Andate a iscrivervi ai loro canali Anche se non li seguite Tempo che ritornano al loro livello Andatevi a iscrivere per solidarietà Scrivete anche, mi manda lo zoccolo duro che fa sempre piacere E iscrivetevi ai canali che vi lascio qua sotto Che li hanno riaperti Poi, quando ritorneranno al loro livello Chi vuole li segue, chi vuole non li segue Come è sempre stato Detto questo, parliamo del Milan Milan, Milan Solo con te Allora, vi dico la verità Ci sono due emozioni contrapposte Da un lato C'è la persona obiettiva Che dice Ormai Lo scudetto È andato C'è stata la possibilità di poterlo vincere Per colpa della proprietà Per colpa anche nostra Perché comunque Adesso va bene tutto Gli errori di mercato Non è stato Continuo a sentire Che parla di tutto Tranne che del trequartista Impazzisco Anche stamattina E forse andava preso l'attaccante Oh Il trequartista andava preso Mica un disegno Gli devo fare Porca miseria E poi È bello che poi Nessuno avrebbe mai pensato Che mancava un trequartista Ma porca puttana Lo diciamo da due anni Vabbè Lasciamo scusate lo sfogo Provo Ma ogni tanto mi parte Così l'embolo Cazzaniga Chi ha visto ieri la live Ci è divertito Chi non l'ha visto Andatevi a vedere la live Delle due ieri Ci siamo fatti un po' di risate Con Cazzaniga Che saluto Stavo dicendo Mi fanno partire Con l'embolo Stavo dicendo Va bene tutto Però Un gol A Bologna e Torino Glielo puoi fare Anche se sei il Venezia Con Occhere Che ed Enri Cioè Non è che Non è che ci vuole Il trequartista nuovo Per fare un Cazzaniga di gol A Bologna E Torino O no Un gol si poteva fare Lo stesso Perché sai Nel lungo Ti do ragione Nel senso che sai Quando fai il campionato Se tu non fai gli acquisti Nel lungo Ci vai a perdere Però Mancano sette partite Un gol Una partita importante Lo fai anche Se non hai comprato Il trequartista nuovo Li fai fino a oggi E oggi non li fai più Quindi evidentemente C'è anche qualcosa di mentale Che va cambiato E va sistemato Oltre gli errori Nella società Dobbiamo metterci anche qualcosa in più In campo Fondamentalmente E questa è la parte Razionale La parte razionale Dice ormai Ormai Non li Non li andiamo a prendere più Quelli là Come li prendiamo Non li andiamo a prendere più Questa è la parte razionale E poi c'è la parte razionale La parte razionale Quella ci crede Quella ci crede Quella dice Li andiamo a prendere Quella dice Oh Adesso Iniziamo a segnare Adesso quelli lì Fanno un passo falso Mourinho Gli fa lo scherzetto Fare partite consecutive Diventa difficile Nel derby Gli spacchiamo Brozovic E finisce a cambiare Scherzo 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 Però per dire La parte razionale Sogna Vede tante cose Anche che non esistono Vede che ci possiamo Crederci A cosa dobbiamo dare retta Noi Alla parte razionale O alla parte Irrazionale Diciamo che Sicuramente Le probabilità Che succeda Quello che pensa La parte razionale Sono le maggiori Le maggiori probabilità Sono quelle Però Però Non è oggi Il tempo Delle polemiche Non è oggi Il tempo Di Essere lamentosi Depressi E incazzosi E quant'altro E quel momento Era quest'estate Quando il mercato Era aperto Solo che eravamo In pochi Eravamo io E pochi altri Arrabbiati Tutta l'estate Tanti si arrabbiano Adesso Che ormai è tardi Ormai i buoi Sono scappati Quindi nel momento In cui adesso Non serve Essere arrabbiati Incazzosi E quant'altro E ormai crediamoci Che ormai crediamoci Fino alla fine Mancano sei partite Si sostiene E Si punta Lo stesso Anche perché poi Se vinci Come dice Buon cazzaniga Se vinci Cosa fai? Perché vai in Duomo No? Di conseguenza Ci devi Ci devi puntare A vincere A sperarci Ci devi puntare Tanto ormai Gli errori che sono stati fatti Sono stati fatti Quelli non si cambiano Spero che l'anno prossimo L'abbiano capito Ma non mi sembra E Ormai crediamoci Proviamoci Noi tante volte Siamo finiti in un fosso Poi ci siamo tirati fuori Dubito Più che altro Che l'Inter Possa fare Dei passi falsi Adesso che è lì davanti Possa fare dei passi falsi Adesso che è lì davanti Però Sai Non c'è conte Tutti possono sbagliare Hanno già sbagliato altre cose Tutto può succedere Allora il pazzo Passa con il rosso Dietro le macchine Con lo scooter La gente è matta E Tutto può succedere Tutto può succedere Quindi Crediamoci Adesso abbiamo la partita In casa con il Genoa Ragazzi Lo stadio sarà pieno Siamo qui a San Siro Vediamo Intanto Chi recuperiamo Che già Che già sarebbe Qualcosa di buono E giusto Come dicono in chiesa No Vediamo Chi recuperiamo Qualcuno torna Rebic Per esempio Romagnoli Speriamo di no Oh raga Comunque incredibile Da quando non gioca Romagnoli Non prendiamo golle Che incredibile Vediamo Vediamo Chi recupera Benassere Fondamentale Ibra Ragazzi Ibra Sapete che io sono fan di Ibra Ma dopo sto finale di stagione Penso sempre di più Che l'anno prossimo Va bene Origi Se dovesse arrivare Ma ce ne serve pure un altro Cioè Solo Origi Non basta Perché Rebic Non ti da garanzie Solo Origi Non ti basta Per l'anno prossimo Con i nostri preparatori Poi Prima o poi Li cambieranno Sotto traccia Prima o poi Li cambieranno Speriamo In qualche modo Bisognerà sbarazzarsi Di questi preparatori Non lo so Vediamo Se ce la faranno Iscrivetevi al canale Dato quello che è successo Ci troverete sicuramente Il link di Instagram E il canale Telegram Sul canale Telegram Non è una chat Pubblico solo i video Quindi unitevi al canale Che io ogni volta Che faccio un video Metto il link del video Come se fosse una notifica Non vi da nessun fastidio Ce n'è uno al giorno Quando faccio il video Quindi non vi da fastidio Non c'è chat Non c'è gente che scrive No Tranquillo Serve proprio Perché se succedono Delle cose tipo questa Apri il nuovo canale Pubblichi il video La gente ti trova subito Semplicemente Mi raccomando È importante È importante Che se mi chiudono il canale Ma che potrebbe essere Che Faccio il video Tempo di pubblicarlo Ma hanno chiuso il canale Faccio video da 4 anni Uno che sponsorizza le magliette Lo troveranno Mica li ho tolti tutti Quindi Può essere che mi chiudano il canale Da un momento all'altro Quindi seguitemi Sugli altri social Se no Poi farete fatica A trovarmi E senza di me Senza di me Come farete Senza di me Mannaya Mannaya Ciao belli Ciao belli